Stando così le cose, è cessato ogni pericolo sociale? Certo che no. Niente giaccherie. La società, da questo punto di vista, può stare sicura. Il sangue non le monterà più alla testa. Che curi di più il respiro? L'apoplessia è scongiurata, ma la tisi c'è. La tisi sociale si chiama miseria. Come si muore fulminati, si può morire minati. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Pensare prima di tutto alle folle diseredate e dolenti. Sollevarle. Dar loro aria. Amarle. Allargare magnificamente il loro orizzonte. Prodigare l'educazione sotto tutte le forme. Offrir loro l'esempio del lavoro e mai quello dell'ozio. Alleggerire il peso del fardello individuale, accrescendo la nozione dello scopo universale. Limitare la povertà senza limitare la ricchezza. Creare dei vasti campi di attività pubblica e popolare. Avere come briareo cento mani da tendere da ogni parte agli oppressi e ai deboli. Impiegare la potenza collettiva a quel grande dovere di aprire officine a tutte le braccia. Scuole per tutte le attitudini. Laboratori per tutte le intelligenze. Aumentare i salari. Diminuire la fatica. Bilanciare il dare e l'avere. Cioè a dire proporzionare il godimento allo sforzo e il soddisfacimento al bisogno. In una parola fa sprigionare dal meccanismo sociale a vantaggio di coloro che soffrono e di coloro che ignorano più luce e più benessere. E questo è le anime più sensibili. Non lo dimentichino. Il primo degli obblighi fraterni è questa. Che i cuori egoisti lo sappiano. La prima delle necessità politiche. E diciamolo. Tutto ciò non è che l'inizio. La vera questione è questa. Il lavoro non può essere una legge senza essere un diritto. Non esistiamo. Non è questo il luogo. Se la natura si chiama provvidenza, la società deve chiamarsi previdenza. La crescita intellettuale e morale non è meno indispensabile che il miglioramento materiale. Sapere è un viatico. Pensare è di prima necessità. La verità è nutrimento, così come il frumento. Una ragione a digiuno di scienza e di dottrina dimagrisce. Compiangiamo al pari degli stomaci le menti che non mangiano. Se c'è qualcosa di ancor più straziante di un corpo che agonizza per mancanza di pane, è un'anima che muore dalla fame di luce. Tutto il progresso tende dalla parte della soluzione. Un giorno saremo pieni di stupore. Con l'elevarsi del genere umano, gli strati profondi usciranno naturalmente dalla zona di miseria. L'abolizione della povertà avverrà con il semplice elevarsi del livello. Si avrebbe torto a dubitare di questa soluzione benedetta. Il passato è vero, è molto forte nel momento che stiamo attraversando. È in ripresa, è sorprendentemente questo ringiovanimento di un cadavere. Eccolo camminare e venire avanti, all'aspetto del vincitore. Questo morto è un conquistatore. Arriva con la sua legione, le superstizioni, con la sua spada, il dispotismo, con la sua bandiera, l'ignoranza, e da qualche tempo ha vinto dieci battaglie. Avanza, minaccia, ride. È alle nostre porte. Quanto a noi non disperiamo. Vediamo il campo sul quale si accampa Annibale. Noi che crediamo, che cosa possiamo temere? Le idee non ritornano indietro, più di quanto non ritornino indietro i fiumi. Ma riflettano coloro che non ne vogliono sapere dell'avvenire. Dicono no al progresso. Non è affatto l'avvenire che condannano, ma loro stessi. Si danno una brutta malattia. Si innoculano il passato. Non c'è che un modo di rifiutare il domani. morire. Ebbene, che la morte del corpo giunga il più tardi possibile, quella dell'anima, mai. questo vogliamo. Sì. L'enigma dirà la sua parola. La sfinge parlerà. Il problema sarà risolto. Sì, il popolo, sbozzato dal diciassettesimo secolo, verrà completato dal diciannovesimo. Lo schiudersi futuro, lo schiudersi prossimo del benessere universale, è un fenomeno divinamente fatale. Immense spinte d'insieme governano i fatti umani e li guidano tutti insieme allo stato logico, cioè all'equilibrio, cioè all'equità. Una forza composta di terra e di cielo risulta dall'umanità e la governa. Questa forza compie dei miracoli. Le soluzioni meravigliose non sono per essa più difficili che le peripezie straordinarie. Aiutata dalla scienza che viene dall'uomo e dall'evento che viene da qualcun altro, non si lascia spaventare più di tanto da quelle contraddizioni che stanno nell'impostazione dei problemi che al volgo sembrano impossibilità. Ella non è meno abile nel far scaturire una soluzione dal ravvicinamento delle idee che un insegnamento del avvicinamento dei fatti. E tutto ci si può aspettare da parte di questa misteriosa potenza del progresso che un bel giorno confronta l'Oriente e l'Occidente in fondo a un sepolcro e fa parlare gli mani con buona parte all'interno della grande piramide. Nell'attesa nessuna fermata, nessuna esitazione, nessuna sosta nella grandiosa marcia in avanti delle menti. La filosofia sociale è essenzialmente la scienza della pace. Ha per scopo e deve avere come risultato la dissoluzione delle collere per mezzo dello studio degli antagonismi, esamina, scruta, analizza, poi ricompone. Procedere per via di eliminazione, togliendo l'odio da tutto.